Ciao a tutti, sono Andrea e sono il titolare e l'oste dell'Osteria della Zabariona. Questo locale l'ho aperto nel 2021, in un periodo abbastanza complicato, però l'idea era ormai matura ed era pronta e quindi ho deciso di fare questo investimento per questo locale qui. Il racconto di questo locale è un racconto della Romagna, spiegare e raccontare la Romagna ai nostri clienti, alle persone di passaggio, alle gente di Ravenna per fargli ricordare i piatti di una volta. Qui c'è una ricerca del territorio su materia prima, quindi una valorizzazione del territorio, stagionalità perché è estremamente importante e una ricerca sui piatti di una volta che ormai sono andati perduti nel tempo, perché la Romagna è una terra di ricette povere, di piatti poveri e adesso siamo in questo mondo un po' più portati alla ricchezza assoluta e quindi sono andati un po' persi. Quindi andiamo a riscoprire tutti questi vecchi sapori, vecchie ricette di una volta, un po' replichiamo la cucina della nonna. Questo valorizzando il territorio, cercando i migliori prodotti che riusciamo a trovare nella nostra terra, salumi, formaggi, verdure, usando piccoli produttori locali, andando a valorizzare chi ancora ci mette le mani e ci mette la passione per dare un prodotto di altissimo livello. Per abbinare questi piatti abbiamo deciso di fare la stessa cosa sul vino, una grandissima ricerca sul territorio, piccoli produttori, produttori virtuosi per fare un racconto anche sul vino, su quello che è la terra di Romagna.